A Roma, dal 1999, cioè dal secolo scorso, quindi ecco, ma del resto potete seguire il mio italiano, capite il mio italiano? Sì? Se no posso parlare di ammita anche, no? Buona festa in San Paolo, proprio tutte le feste accadono qui, in questa settimana. Prima, la settimana della conversione di San Paolo, la festa del collegio, poi la settimana dell'unità dei cristiani, preghiamo dopo anche l'unità dei cristiani. Ma poi anche vi dico una cosa, forse che non sapete, è che la settimana della festa del prenatto Paolo Manna, questo, il fondatore della Pontificia Pugnone Missionaria, di cui sono indegnamente il segretario generale adesso. Lui è stato il fondatore e il primo segretario generale della Pontificia Pugnone Missionaria. Ha fondato perché cosa? Per suscitare, per promuovere lo spirito missionario in tutti i sacerdoti del suo tempo. Cento anni fa, ha fondato nel 1916. Perché vedeva che i paroci, i sacerdoti in Italia, in quel tempo, pensavano solo alle loro parrocchie. Si chiudono gli occhi così, non pensavano alla Chiesa Universale. Per questo, ha voluto fondare questa Pontificia Unione Missionaria, che si chiamava prima Unione Missionaria del Pugnone. Perché voleva suscitare tutti i sacerdoti uno sguardo più universale della missione della Chiesa. La missione non scrivita solo ai problemi nella parrocchia o nella diocesi, ma nel mondo intero. Cento anni sono passati, ma qualcosa è cambiato. E i sacerdoti pensano sempre ai loro problemi, parrocchie, diocesi. Dicono, io dico i sacerdoti fuori, hanno qui, qui presenti tutti i santi qui. E' già missionario, va bene? E quindi si è devono già santi. Ma vorrei sottolineare il mondo che il Beato Paolo Barra ha voluto per la Pontificia Unione Missionaria. Tutta la Chiesa per la conversione di tutto il mondo. Tutta la Chiesa per la conversione di tutto il mondo. E grazie alle attività, ai pensieri di Paolo Barra, il Concilio Vaticano II, circa 50 anni dopo, ha ripreso tante cose che Paolo Barra ha sottolineato. Prima, la Chiesa per la natura è missionaria. Secondo la vocazione universale di ogni battesato di essere missionari. E quindi tutti i battesati siamo inviati da Gesù a proclamare il Vangelo a tutti. Tutti noi battesati. Qui c'è qualcuno non battesato, qui? Siete tutti battesati, vero? Quindi siete missionari. Ma purtroppo, purtroppo, alcuni battesati, purtroppo alcuni sacerdoti, non pensano ancora a questo. Questa opera è l'evangelizzazione in tutto il mondo che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli. Andate e fate discepoli tutti i popoli. Non pensano perciò, non pregano per la missione. Non offrono i sacrifici per la missione. Tutte le difficoltà della vita, sofferenze, si può offrire per la missione. Per i missionari, anche nei vostri paesi. Potremmo offrire anche, perché no, anche di contributi concreti. Le intenzioni della Messe per la missione della Chiesa. Ma per questo, forse, ci vuole sempre la conversione missionaria. Avete sentito parlare di questa espressione? Conversione missionaria. Papa Francesco, sottolinea molto. Urgente la conversione missionaria. Allora che cosa significa conversione missionaria? Vi dico una cosa. La conversione missionaria, in realtà, non è una cosa così, proprio astratta, oppure, ecco, bisogna fare qualcosa, no? E la conversione cristiana è eccellenza. E questo si rivela proprio nella conversione di San Paolo Apostolo. Avete sentito quelle letture, durante la festa di San Paolo, sì? La prima lettura, la conversione di San Paolo. E cosa c'è interessante là? È che Paolo ha avuto la sua conversione cristiana. missionaria, cioè si è battezzato, si è convertito, per diventare messiato. E subito in quel momento ha avuto la sua conversione missionaria. Cioè subito ha proclamato Gesù e Cristo. Per questo posso dire una cosa importantissima. La conversione missionaria, in realtà, è la pienezza della conversione cristiana. Come la nostra fede cristiana è per natura la fede missionaria. Siete già saluti? Invezzate ancora tutti San Paolo, il patrono di questo collegio. Vabbè, questa conversione missionaria, conversione cristiana, dico una cosa di più su questa parola, con testo. Tutto comincia dalla prima fondamentale reeducazione di Gesù all'inizio delle sue attività pubbliche. Convertitevi. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. e credo di Gesù all'inizio, e credo programato, convertitevi.